ciao ragazzi come vedete è un video un po inusuale per il canale youtube perché in genere sono abituato e siete abituati a ricevere un video tutorial o una videoricetta per cucinare insieme un salvaceno o qualsiasi altra cosa in questo caso faccio questo video per ringraziarvi è molto estemporaneo come vedete non ci saranno tagli vi volevo dedicare qualche minuto per ringraziarvi perché cosa perché qualche giorno fa abbiamo raggiunto insieme proprio qui sul canale youtube la cucina per tutti cioè il mio canale che ho creato qualche tempo fa i 2000 iscritti ovviamente non è un mio risultato ma è un risultato che devo solo grazie a voi è vero che metto delle videoricette è vero che carico dei video però ovviamente questi video non varrebbero nulla se non ci foste voi dietro che mi avete supportato ho iniziato diciamo questo percorso in maniera seria in maniera diciamo cadenzata a gennaio di quest'anno avevo pochissimi iscritti avevo 200 iscritti nel giro davvero di neanche un anno sono riuscito siamo riusciti ad arrivare a 2000 io per questo vi devo davvero ringraziare tanto perché state facendo passaparola state riproponendo le mie videoricette alla vostra famiglia state facendo passaparola e non solo gli amici che mi seguono gli amici storici che mi seguono da una vita ma anche tanti di voi che per la prima volta si sono approcciati al mio canale io vi devo davvero ringraziare questo non è come avete visto una videoricetta spero comunque che questi ringraziamenti vi siano piaciuti e che continuate a riproporre le mie videoricette a fare passaparola perché sicuramente i risultati arriveranno anche in misura maggiore quindi grazie da me in questo caso non da chef fabio ma grazie da fabio come persona per così dire e ci vediamo presto con una prossima videoricetta ciao ragazzi buona giornata ciao